si è benvenuti in questo nuovo video allora oggi è il 30 di aprile tra un po anche aprile se ne è andato siamo un po siamo rovinati insomma tempo passa non ce ne accorgiamo nemmeno stiamo facendo colazione giorgia ha preparato negli altri dolcetti adesso ve li faccio vedere poi qui ho cambiato anche la sistemazione perché ho dovuto attaccare la stampante mi mancavano le la carta vabbè che ho preso su amazon ma lo mancavano le cartucce quindi non l'avevamo ancora accionata ma dovevo stampare le schede per i bambini per la scuola e poi per giada e quindi l'ho attaccata qua almeno sempre pronta quindi ho messo la planetaria qui qui la air frayer e il microonde l'ho messo là adesso finiamo di fare colazione e poi iniziamo a fare i lavori come vi ho detto nel video nel vlog scorso delle delle pulizie noi andiamo se no si fa sempre tardi riuscito a fare soli letti quello dei grandi che stanno di là nell'altra stanza non ho potuto fare perché giade stava facendo la video lezione dentro al letto di giada c'erano le bambine che giocavano con pia perché non voleva stare in terra e fuori è brutto tempo adesso poi vi faccio vedere è cambiato totalmente da stamattina quindi non ho potuto neanche stendere perciò adesso vado a scaricare ricaricare l'asciugatrice benedetta l'asciugatrice iniziamo a salutare l'asciugatrice benedetta ecco ragazzi eccomi il prossimo vlog della mia sorella fantasmina e ci faccio un bel video scusate ragazzi starei un po città sono sempre dentro la mia paginella Perchè oggi non posso parlare troppo alla voce perchè... Ciao ragazzini, io sono sotto il mio letto e chiamano Perchè oggi sono sotto il mio letto, questa bella vittura, questa bella vittura ragazzi Cazzo, non posso proprio saperlo Non so perchè con quelle ragazze ragazze... Allora guardate non vi capite oggi Non li sopporto mai Sono un po' che ci sapevo Non li sopporto mai Non li sopporto mai perchè non li sopporto mai Perchè non li sopporto mai No Ragazzi rieccomi a fare il video a alta voce perchè per la prima volta c'è mia mamma che parla con un piccino Cioè vi racconto quello che le è successo Intanto mi faccio Non ci vediamo Non ci vediamo No No Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Oggi è sabato. Io non ho ancora filmato niente in realtà perché era una bella giornata ma stamattina ho avuto la videoconferenza con Bibi. Per il progetto di cui vi parlerò in un prossimo video. Adesso sto preparando la cena. Qui c'è la cipolla che sto soffriggendo. Ci vanno a buttare poi la polpa che sempre la passo con questo. E qua invece sto facendo le polpette. Quindi stasera mangiamo le polpette con leggero sugo. E poi faccio penso i pomodori perché a Sabrina non piacciono le zucchine. Se no quasi quasi le metterei lì dentro. Però adesso vediamo un attimo. Magari metto le zucchine lì. Noi mangiamo le zucchine e invece Sabrina mangia poi due pomodori a parte. Penso che farò così così a meno contento tutti quanti perché ho fatto passare Maurizio. Cioè non l'ho fatto passare. L'ho chiesto e lui è passato in un negozio mentre veniva a casa che si chiama Costo Poco anche se in realtà non costa poco. Ma vabbè. E ha preso pomodori e zucchine e poi banane e mele. Mauri hai preso banane e mele? Hai preso banane e mele? No, mele e arance. Ah, ha preso mele e arance. E' perché non avevamo più frutta e più verdura e fino a martedì che non posso scendere. E avevamo senza se no. E quindi niente. Quindi adesso vado a preparare la cena e continuo a guardare un video. Ho scoperto, cioè in realtà ero già iscritta, ma l'ho scoperto oggi guardando un video che mi piacciono tantissimo. Il canale YouTube si chiama Casa Sunshine. E' veramente bellissimo. Loro sono simpaticissimi. Infatti chiedevo anche a Maurizio dove era Re Canati perché loro sono di lì e sarebbe stato bello incontrarli e conoscerli perché sono veramente simpaticissimi. Ma è lontano da noi molto, quindi mi sa che non ce la faremo mai. Però vabbè, comunque vado a godermi il video che stavo guardando. Vi lascerò il link, se mi ricordo, in info box al loro canale, così potete andarli a visitare anche voi e a seguire se vi piacciono. E niente, qui adesso vado. Faccio vedere qui perché lì non c'è luce, il mio telefono fa i capricci come sempre. Qui ci sono le prime polpette, sono quattro porzioni. Alcune le vedete più grandi perché è parente con qualcun'altra che è venuta un po' più piccola. Comunque le faccio cuocere, come potete vedere dal cestello, dentro l'air frayer. Per circa... Mettiamo a 180 gradi e mettiamo per 15 minuti poi. Facciamo 10 e poi le giriamo, però devo attaccare la spina, se no... No, è già attaccata, ok. 10 minuti Intanto vado a formare le altre. Sotto nel piatto ho messo solo un velo di pangrattato in modo che non si appiccicano al piatto e basta. Vado a formare le altre. Come vedete, sono abbastanza cotte, ma per sicurezza io le metterei ancora qualche minuto per essere sicura che siano cotte anche dentro. Quindi le rimetto e le faccio andare ancora 5 minuti, diciamo. Ok. E basta. Ne sono venute in tutto 32 con una confezione di prosciutto cotto dell'Eurospin, 650 grammi di carne tritata, 2 uova e mezza bustina di formaggio. Da 100 grammi, quindi 50 grammi di formaggio e niente. Qui invece ci sono le zucchine che stanno cuocendo, adesso vado a mettere un pochino di noce moscata e basta, credo. E un po' di sale, perché se no mio marito mi ammazza, per dire, però faccio sempre le cose senza sale. E poi continuo a lasciare cuocere finché non è tutto pronto. Quando le polpette sono pronte, lascio fuori quelle per Sabrina e Pia, perché stasera mangerà anche lei le polpette, e tutte le altre invece le butto dentro le zucchine col sugo. Grazie a tutti. Bravo, brava, 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 complimenti, complimenti, complimenti. Batti le manine, 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 brava Pia, brava, brava, no? ciao 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 pia pia ciao 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 butti butti le moline Giorgia Giorgia dove è andata a finire Giorgia? no giù quel piede eh 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 tira giù quel piede dove è andata a finire Giorgia? boh dove è andata a finire la mamma? eh se posso avere buongiorno una cosa bianca si capisce è lei che butta giù le cose eh no guarda qua i difetti a papà qui comunque ciao pia mamma pia buttava giù pezzi di quei cosi bianchi vai calma pezzi di salvabuchi ciao pia ciao io mi colico sopra di te e tetta brava pia brava 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 batti le manini dai brava pia brava 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 pia brava brava pia brava pia la tua io ho mangiato no la mia non ha fatto grum grum no 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 papà che dorme ancora beh ancora è presto figlia perché ti sei sentita sopra papà ma poverina si sveglia alle 5 tutte le mattine dai ma c'è che sono i genetri rieccoci qui allora sono le sette e mezza sto preparando la cena vi faccio vedere allora qui c'è le sovracocce con le patate per loro qui ci sono le zucchine da fare poi con la pasta per pia e qua invece sto preparando il soffritto da mettere nel freezer perché c'è il sedano che se ne sta andando anche le carote così almeno visto che poi martedì vado a ricomprare la verdura queste qua le faccio andare le metto lì così almeno ho soffritto e con quella nuova che prenderò ci farò altre cose e boh non basta io adesso vi saluto il video finisce qui è stato un video di 4 giorni spero che vi sia piaciuto se è così lasciate un like iscrivetevi al canale e noi ci vediamo al prossimo video ciao ciao